Ben ritrovati con il nostro telegiornale, ancora poche ore dunque sarà di nuovo Giostra del Saracino ad Arezzo con l'edizione di giugno di San Donato che vedrà in palio la lancia d'oro dedicata a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla sua morte. Questa mattina alle 7 il primo colpo di mortaio ha svegliato la città, poi alle 11 il secondo e quindi l'uscita dell'Araldo per la lettura del bando e Signarezzi che ha ritirato dal Duomo la lancia d'oro. Un'edizione che si preannuncia combattuta ed equilibrata con tutti e quattro i quartieri che si presentano per quello che riguarda i loro giostratori nelle migliori condizioni. E facendo un passo indietro, sempre parlando di giostra nelle scorse ore, ieri le cene propiziatorie, c'è stato anche un piccolo incidente. Sentiamo. 8 le persone che sono state soccorse questa notte in via di Colcitrone dopo che qualcuno aveva spruzzato dello spray al peperoncino. Quella appena trascorsa è stata la serata delle cene propiziatorie da parte dei quartieristi, una notte di festa prima della grande sfida in Piazza Grande, da dove uno dei quattro quartieri della giostra del Saracino uscirà vittorioso con la lancia d'oro dedicata a Giorgio Vasari. Qualcosa però stanotte è andato storto. Attorno all'1.40 è stato diramato l'allarme e sono intervenuti gli operatori dell'emergenza urgenza in via Colcitrone dove Porta Crucifera stava festeggiando. Qualcuno aveva spruzzato spray urticante. Sono intervenuti i sanitari con due mezzi BLSD e l'infermiere disaster manager per la valutazione sul posto. Condanniamo quello che è successo. Se pensate che tutta la settimana il quartiere paga 15-20 Stuart per la sicurezza e per il benessere di tutta la gente che viene qui in una scena propiziatoria un giorno prima della giostra succedono questi fatti, il consiglio e il quartiere lo condanna fermamente. Abbiamo fatto tutto quello che la prefettura, la questura ci ha chiesto in tutte le sue forme di legge, anzi abbiamo preso ancora più Stuart perché la gente, come avete visto, ce n'è tanta, però nella moltitudine dell'agenza c'è qualche duro che il cervello non connette e succedono purtroppo questi fatti qui. Complessivamente sono stati trattati 8 intossichati per innalazione della sostanza urticante con lievi irritazione di naso, gola e occhi. Sono stati tutti trattati sul luogo dell'evento. Mi spiace parecchio anche perché diciamo che non va a vantaggio del quartiere e neanche della giostra. Proseguiamo con la cronaca. 52enne, residente in Valdarno, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione per furti in abitazione. Si qualificava come dipendente Enel e poi si introduceva appunto a casa delle persone, soprattutto sole e anziane, approfittando di loro e si impossessava di contanti e preziosi. È stato individuato grazie alle immagini di video sorveglianze e anche al successivo riconoscimento da parte delle vittime. Un infortunio nelle campagne aretine è successo oggi in località Chiaveretto, ai confini tra i comuni di Arezzo e Danghiari. Un uomo si è ribaltato con il trattore mentre stava lavorando sui campi, sul posto, ai vigili del fuoco, gli operatori dell'emergenza urgenza della ASL. È stato attivato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha calato nella zona gli elisoccorritori per il recupero dell'uomo, poi affidato alle cure dei sanitari. Torniamo a parlare di quanto è accaduto ieri in zona Giotto ad Arezzo. L'uomo che ha sparato e ucciso la moglie malata adesso si trova in carcere. Ci aggiorna Chiara Sadotti. Dopo aver trascorso una notte in questura, Alessandro Sacchi, l'ottantenne, che è ucciso con un colpo di pistola alla moglie Serenella Mugnai, 72enne, malata di Alzheimer, è stato trasferito nel carcere di San Benedetto, dove passerà le ore che lo dividono dall'udienza di convalida dell'arresto, che potrebbe essere celebrata a lunedì mattina. In quell'occasione sarà infatti valutata la misura cautelare adeguata alla situazione dell'anziano, sulla quale pende l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto coniugale con la vittima. L'uomo è difeso dagli avvocati Piero Melani Graverini e Stefano Sacchi, nipote della coppia. Anche a loro l'ottantenne ha raccontato la sua estrema difficoltà nel riuscire a prendersi cura della moglie le cui condizioni di salute peggioravano giorno dopo giorno. La coppia non aveva figli ed era stato proprio Sacchi a prendersi cura della moglie, una situazione sempre più difficile da sostenere. Andavo a assistere la signora da febbraio, che soffriva d'alzame, ma io ieri ci sono state, era tutto regolare. Lui mi aveva detto che la voleva mandare, non era in RSA. Io gli avevo consigliato di andare al diurno, mi aveva detto vado al punto insieme di via Curtatone, mi faceva sapere stamani, ma io gli avevo detto che non ce la poteva fare da solo, si doveva fare aiutare. Lui era esasperato. L'omicidio si è consumato all'interno dell'appartamento della coppia, al terzo piano di una palazzina di via Legiotto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sulla vicenda, indaga la squadra mobile, i due si trovavano in cucina, quando l'uomo ha rivolto la pistola ereditata dal padre, non dichiarata verso la donna, e ha sparato un colpo alla testa. Poi sotto sciocca ha raggiunto i vicini chiedendo che fossero avvisate le forze dell'ordine e chiamati i soccorsi, ma per la donna era ormai troppo tardi. E adesso invece parliamo di meteo, perché dopo queste giornate di grande AFA la pressione appunto è in calo per l'arrivo proprio di una depressione atlantica che porterà anche in Toscana temporali. Nelle prossime ore la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha messo un'allerta di codice giallo appunto proprio per forti temporali. Le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale saranno localmente forti e più frequenti e probabili sulle zone settentrionali e centrali, possibili grandinate anche e colpi di vento. Adesso invece apriamo la pagina della politica, sono già molti i sindaci eletti nella scorsa tornata elettorale della 8 e 9 di giugno che hanno iniziato il loro mandato. Per quello che riguarda Roberta Casini è il terzo. Vediamo. Le novità in giunta sono due entrate che sono Elena Cresti per quanto riguarda la scuola, la casa e le attività produttive, Michela Frasconi per bilancio, tributi e partecipate. Poi ci sono le riconferme, il vice sindaco Iuri Sicuranza con le deleghe solite, quelle che aveva in precedenza, lavori pubblici, manutenzioni, consorsi stradali, ambiente e poi una conferma di Stefano Cresti con cultura, turismo e comunicazione. Ci saranno tantissime cose da fare, io sono convinta di avere una grande squadra, quindi persone competenti che lo fanno essenzialmente per passione e motivazione. E quindi da domani mattina saremo tutti quanti al lavoro, perché il nostro territorio ha veramente bisogno non solo di essere mantenuto per quello che siamo riusciti a fare, ma comunque di proiettarsi ancora di più verso l'esterno, verso un futuro che veda arginare purtroppo quella tendenza allo spopolamento nei piccoli borghi che noi riusciamo a trattenere, ma che dobbiamo sempre di più mettere in atto politiche serie ed attive contro lo spopolamento che sono poi la qualità della vita del nostro borgo e la qualità dei servizi che offriremo. Insediato anche Sindaco e Consiglio Comunale a Foiano per Jacopo Franci e invece una prima esperienza appunto da Sindaco. Parte la nuova amministrazione di Foiano del Chiana. Nell'ultima tornata elettorale Jacopo Franci alla guida della lista Scelgo Foiano aveva raccolto oltre il 61% dei consensi e nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale ha comunicato ufficialmente i competenti della Giunta e le deleghe assegnate. Siamo molto contenti, soddisfatti, siamo felici della squadra che proponiamo. Riccardo Reali sarà il nuovo assessore alla cultura e al turismo, Elena Bigliazzi sarà l'assessore alle politiche sociali, alle pari opportunità, all'innovazione tecnologica. Gli ha la protezione civile, Gabriele Corei che avrà anche la delega di Vice Sindaco riavrà come lo scorso mandato le delega ai lavori pubblici e allo sport e sarà Chinoli neossessore con le delega ad Ambiente ed Agricoltore. Inoltre ogni consigliere avrà una delega. Il capogruppo del Consiglio Comunale sarà Francesco Seriacopi e il vice capogruppo sarà Paolo Amoretti. Quindi una squadra giovane, dinamica, abbiamo voglia di lavorare, non vediamo l'ora di iniziare e quindi un augurio di buon in bocca al lupo a tutto il Consiglio Comunale di Foiano. Resteranno al primo cittadino le deleghe all'urbanistica, bilancio, personale, edilizia, attività produttive e scuola. E si è insediata anche l'amministrazione comunale di Castiglionfibocchi. il sindaco Marco Ermini, riconfermato con una larga maggioranza dell'86% dei consensi, appunto convocato il primo Consiglio Comunale. Confermata la giunta, composta da Rachele Bruschi, vice sindaco, e con le deleghe alle politiche giovanili, scuola, cultura, politiche sociali e sanitarie, sport, rapporti con il personale e pari opportunità. Edoardo Ferrini ha al bilancio invece società partecipate, associazionismo, promozione e sviluppo del territorio, attività produttive e turismo. Inoltre, per una maggiore partecipazione di tutto il Consiglio alle scelte dell'amministrazione comunale, il sindaco ha attribuito a ciascun consigliere delle specifiche deleghe. Adesso invece parliamo di sanità. Indubbiamente la tragedia di Viale Giotto pone tanti interrogativi, uno su tutti, come assistere le persone malate e non autosufficienti tra le mura domestiche, ovviamente nel migliore dei modi. Ce lo spiega la ASL con un nuovo servizio. Sentiamo. Pensate a una persona che ha 75 anni, 80 anni, quindi un anziano, che viene tolto all'improvviso dal proprio domicilio e si ritrova in un ambiente completamente diverso dall'ambiente in cui è abituato. Pensate a una persona appunto con demenza. Ritornare rapidamente a domicilio significa iniziare a far rivivere, a fargli appropriare degli spazi che conosce e serve soprattutto a migliorare quindi il recupero. Promuovere la permanenza a casa delle persone non autosufficienti e migliorare così le loro condizioni di vita. Questo è infatti l'obiettivo principale di Atedom. Si tratta di un'iniziativa della zona distretto Aretina per promuovere le cure domiciliari per le persone non autosufficienti. È un progetto che è stato finanziato dal Fondo Europeo e la zona distretto Aretina partecipa quindi insieme alla regione Toscana a questo bando ci sono circa 900.000 euro che servono sostanzialmente a garantire assistenza a persone con demenza, a persone con decadimento cognitivo, a minori con disabilità per garantire una continuità tra le variazioni che possono in questo modo garantire e soprattutto facilitare il rientro a domicilio in maniera più rapida per evitare quindi una permanenza più lunga negli ospedali oppure anche eventuali re-ricoveri all'interno degli ospedali. Quattro, gli interventi che riceveranno un finanziamento. L'azione 1 prevede l'assegnazione di cure domiciliari erogate dall'osso al fisioterapista in seguito a una dimissione ospedaliera. L'azione 2 prevede delle prestazioni a domicilio erogate dall'osso, dal fisioterapista o interventi di sostegno psicologico e di formazione dei caregiver in favore delle persone affette da demenza o Alzheimer. L'azione 3 invece prevede l'erogazione di contributi economici in favore degli anziani over 65 o di età inferiore con condizioni di disabilità gravi ai sensi della legge 104 per fronteggiare il costo di un assistente familiare contrattualizzato. L'azione 4 è la novità del progetto per la zona distretta retina e in favore dei minori in condizioni di disabilità certificate ai sensi della legge 104 senza condizioni di gravità e prevede l'assegnazione di buoni servizio con figure socioeducativi e socioassistenziali quali lo psicologo, l'educatore o l'os in favore dei minori al proprio domicilio. E parlando invece in questo caso di pediatria sono state potenziate, in questo caso in Casentino e in Valtiperina appunto è stato potenziato il percorso pediatrico. Potenziata la presa in carico dei pazienti pediatrici nei giorni prefestivi e festivi nel Casentino e nella Valtiperina il nuovo modello organizzativo del percorso pediatrico attivo da oggi è stato introdotto dall'azienda sanitaria per rispondere in maniera integrata e multiprofessionale ai bisogni di salute e assistenza dei più piccoli. La ASLA Toscana Sud-Est al fine di rispondere all'esigenza della continuità assistenziale e alle richieste delle associazioni di genitori dopo la fase sperimentale che ha visto la presenza sino al 15 giugno del pediatra il sabato mattina ha definito un nuovo progetto di stretta collaborazione tra pediatri di libera scelta e pediatri ospedalieri per garantire l'integrazione tra ospedale e territorio ma non solo. Il percorso coinvolge infatti anche il pronto soccorso dei due presidi ospedalieri del San Donato di Arezzo e gli infermieri territoriali. In particolare è previsto il triage nel pronto soccorso dei presidi dei due territori e un eventuale trasferimento per consulenza presso il punto di pronto soccorso pediatrico a retino anche con l'attivazione del trasporto sanitario in caso di necessità. Sarà poi attivato il teleconsulto pediatrico tra pronto soccorso e pediatria dell'ospedale San Donato e la continuità del numero telefonico del pediatra di guardia attivo 24 ore su 24. Il modello di presa in carico prevede anche una specifica formazione sulle emergenze pediatriche rivolta ai medici del pronto soccorso e agli infermieri ma anche momenti di scambio con i medici di famiglie pediatri di libera scelta. Saranno inoltre organizzati appuntamenti informativi con i genitori dei territori della Valtiberina e del Casentino sulle principali patologie pediatriche. Nel presidio ospedaliero del Casentino sarà infine ripristinata ogni venerdì la presenza del pediatra neonatologo. E' andato ad Anderson Birman fondatore dell'azienda calzaturiera brasiliana Arezzo il premio Civitas Arezzi 2024 la prestigiosa onoreficenza istituita nel 2004 alla memoria di Monsignor Angelo Tafi e conferita dal Comune di Arezzo a personalità benemerite che con il loro operato contribuiscono a diffondere la conoscenza appunto della città oltre i confini territoriali. Erano invece tutti italiani e giovani gli imprenditori che si sono ritrovati ieri al Teatro Petrarca di Arezzo per l'iniziativa appunto dei giovani industriali di spiegare la pace. Molti i temi che sono stati discussi a cominciare dalla situazione geopolitica che stiamo vivendo e che ovviamente influenza molto i mercati. Viviamo certamente un periodo storico dettato e cartellizzato da grande incertezza la crisi nel Mar Rosso con Iuti che sta fortemente compromettendo la nostra capacità di esportare alle cifre competitive a cui eravamo abituati. A dirlo è Riccardo Di Stefano presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria ospite dell'incontro di spiegare la pace organizzato ad Arezzo al Teatro Petrarca un incontro che è voluto partire proprio dagli scenari geopolitici per fare il punto sulle conseguenze economiche dei conflitti in atto e cercare nuove prospettive di sviluppo economico politico e sociale. I giovani imprenditori hanno nel DNA la pace non solo perché sono la prima generazione che ha vissuto davvero in pace ma anche perché crediamo che attraverso l'impresa si possa contribuire a creare un benessere collettivo anche transnazionale fatto di maggiore inclusione maggiore sostenibilità e salvaguardia di diritti umani e di diritti. Per farlo noi crediamo fortemente nell'Europa come first mover e rappresentante presidio di tutto questo e quindi ci auguriamo che ciò possa essere realizzato. E invece Carlo Municchi neo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana del Sud quindi anche per l'ambito aretino a spiegare nel concreto quali sono le ripercussioni anche a livello imprenditoriale ma la categoria non si arrende. Un'azienda del territorio ha acquistato più di un anno fa un macchinaio per sviluppare una nuova linea produttiva l'ha acquistato dalla Cina perché aveva una tecnologia specifica per questo settore se le aspettava un anno fa è arrivata un mese fa questo perché ci sono delle chiusure specialmente nel canale di Suez a causa comunque delle criticità del Medio Oriente che hanno generato dei ritardi importanti nelle consegne e questo sostanzialmente è sia per quanto riguarda i macchinari ma per tantissimi materiali che utilizziamo qui in Italia tutti i giorni e in Europa in generale. Però insomma se siamo qui ad Arezzo soprattutto insomma in una città in una provincia così produttiva a parlare di impresa evidentemente c'è ancora voglia di fare impresa anche in un'età giovane insomma. Ce n'è più di prima di voglia in questo momento perché sappiamo come le nostre imprese nel tempo sono riuscite a uscire molto più vittoriose dai momenti di crisi noi siamo giovani e abbiamo una gran voglia di fare lo dimostra il fatto che qua ci sono più di 100 persone provenienti da tutta Italia per un evento che ha una portata a questo punto di caratura nazionale qui ad Arezzo che è patria di impresa è stata patria di grandi imprenditori che sono partiti da zero e continua ad essere patria di un'impresa che ha voglia di crescere e che ha voglia di far vedere i propri denti al mercato è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti